Ancora con Gigi Gai su radio facebook in diretta live da Soverato volevo farvi gustare oltre il Lido e il mare Oggi non c'è tantissima gente come vi dicevo nel video precedente perché non è una giornata caldissima e quindi meno turisti, magari gente che si sta più a casa a riposarsi e verrà in tarda serata o nella mattinata di domani Quindi venite alla Baia dell'Ippocampo, al Lido San Domenico, qui ragazzi la pulizia è di casa ma soprattutto ombrelloni con posaceneri diciamo uno dei Lidi più belli della costa di Soverato quindi mi raccomando su radio facebook in diretta live come potete vedere c'è anche il bagnino e quindi diciamo che è un Lido abbastanza organizzato